Oggi ci giochiamo sul server a PartyCraft che giochiamo a Castle Wars, facciamo soltanto due partite, una partita perché può darsi che si dilunca un po' troppo, quindi no. Bene, l'ultimo è questo qua, che hanno già iniziato, ovviamente non è che aspettano ma è un altro che metto la protezione sopra, è perfetto. Bene, iniziamo, prendiamo del lagno, mi esagero, forse che sono soppronto qui, a me da tutti qua mi soppronto perché io e tutto, non ho capito chi è che spazio. C'è molto legno? No, c'è poco intelligenza. Cosa stanno facendo? Ecco qua, guardate, fanno la barriera una volta che sono preso questa bandiera che ovviamente a noi la rossa e alla trini. Quelli i blu devono prendere questa bandiera che sta qua, aiuto, stiamo soffrendo. Allora i blu ovviamente hanno vinto perché una volta che vanno con la bandiera e vanno dentro alla cosa che sta blu, fino a non vinto. Teniamo qua, ci sono delle porzioni e anche degli stifoli e anche le scuole devono le prendere che conviene. Usiamo l'elmo, ecco qua, oh la la, ecco le mie. Questi video sono una partita che non ho mai avuto vita, ma anche il cibo e ho fatto rigenerare le vite che adesso. Me le porto e le faccio così. Ah l'elmo non le posso usare, vedi che intelligenza è. bene, facciamo così. Ecco qua, andiamo, non sono né incivile, quindi cammino. Però per contatto, attenzione, che se qua andano facilmente. Quindi ecco l'ho fatta fuori. l'ho fatta. Bene, non mi dica come ha fatto morire, perché non mi so. Bene, il gioco è così, però hanno vinto e quindi non mi lascio stare. Cioè i blu sono da tutte le parti, io uso perché perché io lo vedo, ecco qui. Se ne ho sentito, attiva l'occhio, attiva la scuola. vedete, il gioco è sempre così fino a quando prenderai la bandiera che loro hanno preso, non non si sa dove sta. Quindi sono molto intelligente. Cioè, non ho capito cosa vogliono. Una volta che hanno preso la bandiera, anzi, attaccano pure. Cioè, quindi, ahia. Questa qua fa il culo, ma a me non mi riesci a prenderla. E riuscite a prenderla. Bene, prosegue il gioco. Ecco, questo qua, ecco qua, devi scegliere perché comunque questo qua è un server così, un gioco che non è che di morire, ovviamente se prendi la bandiera non più usare armi. Non ho capito perché non ho capito. Cioè, ci sono da tutte le parti, i blu. I blu. A vero? Sì, grazie alla mia spada. E noi due può darsi che... Cioè, ci sono cercano di aiutare, ma... Scusate, ho visto una cosa più. Vabbè, ho visto una cosa più. Io prendo le mine e anche l'arco che è iniziale. Cioè, non lo sto andando a tagliare, vedete. Prendiamo questa mine. Vedete, vedete, subito si generano... Guarda, ho visto un altro... Beh, non devo conoscere, posso non stare. Poi ci sono alcuni che giocano mentre giocano, sono dormendo. Cioè, vediamo. Uno fa un fatto, passa il blu. Ecco, dormono. Sono così senza farina. Come questo qua, che mi è ucciso. Quindi, il gioco è così senza che uccidi. Ovviamente qua il gioco è diventato un po' brutto perché i blu hanno tutto. Cioè, i rossi stanno dormendo. E io invece, cosa che faccio? Ho superato tutto, quindi. Ah, guardate. Cioè, loro... Anche loro qua. Cioè, anche vado... Cioè, tutte e due hanno delle bandiere. Bene. Quindi, ottima cosa... Cioè, inutile. Cioè, questo qua è sparito. C'è un buco qua che sto dormendo. Cioè, nessuna quella che c'è... E tutti quelli che riesce a passare attraverso... Adesso l'avete visto voi che usa le app. Quindi... sono questi vanno... Ah, penso che ho qui. Bene. Ecco, così il gioco. Fino a quanto loro non prendono questa bandiera, magnificenza di bandiere che... ...l'hanno presa. Che sarebbe... Aspetta che faccio. Ecco qua. La miserebbe la lana rossa. E allora la lana blu. Viene qua. Mi stanno sfidando. Viene qua la lana rossa. Viene questo qua. E qua sta la bandiera. Se il gioco sembra così, ecco qua, stanno anche entrando. Allora, ma non capito dov'è? Dove nemmeno andare. Spazzate via di seco. C'è l'unico vicino? No, no. Oh, non ci sono. Allora, ci sono 4.000 persone che stanno qua sopra. Non capito perché. 4.000. Bene. Una volta che il gioco sembra così, una volta che hanno preso la bandiera, viene finito il gioco e chi che prende la bandiera vince. Cioè, i rossa sono presa la bandiera più, hanno vinto. Però devono andare su la spawn. La spawn sarebbe a questo. Dov'è che quando muori... No, no. Come ha fatto questo? Aspetta. C'è qua, no. Ho ricoperto tutte le scale. Non si può sapere. Allora, comunque, sono intrapolate. Si. Ma non io. Così, va, tra le due. E si va. Bene, anche la trova. E' sempre così, torna che cambia. bene questo è tutto speriamo che vi piaccia il mini game che è stato bruttissimo noi continuiamo anche la serie se ci volete tempo a caricare bene ci vediamo al prossimo video ciao